Stiamo vivendo una situazione irreale, ci siamo resi tutti quanti conto di essere vulnerabili, stiamo facendo le cose diversamente rispetto al passato, questo periodo così difficile ha insegnato tanto a tutti e ci ha rallentato tantissimo, un rallentamento di tanto in tanto non dispiace, però da come si sta vedendo i problemi poi possono diventare altri, anche di natura economica, visto che tante persone veramente stentano ad arrivare a fine mese perché c'è stato un freno di tutto, a tutti i livelli, quindi la cosa importante che ben si sa è salvarsi la pelle, non rischiare, cercare di avere un altro po' di pazienza per cercare di superare questi altri mesi duri che stiamo già vivendo e che dobbiamo vivere, però altro non possiamo fare, dobbiamo starci attenti, dobbiamo farci prendere dalla smania o dalla convinzione di pensare che questo virus sia scomparso.